Ciao a tutti da Vittorio, oggi dobbiamo parlare di Stefan Daniel Radu, perché il rumeno ha raggiunto le 401 presenze con la maglia della Lazio, un traguardo storico. Ciao a tutti da Vittorio, mi raccomando se sei un tifoso della Lazio questo è il canale giusto per te, perché ogni giorno caricherò almeno un nuovo video sulla prima squadra del capitale, quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che riceverai la notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Il video di oggi deve essere dedicato a Stefan Radu, il difensore della Lazio ha raggiunto 401 presenze, eguagliando il record di Beppe Favalli, Spadino come si chiamava ai tempi quando giocava nella Lazio. Una coincidenza che sono tutte e due tersini sinistri? No, non credo, c'è un motivo secondo me, nel calcio moderno tersini sono una merce sempre più rara, e quindi quando ne trovi uno valido, di solito cerchi di non venderlo, cerchi di farlo giocare il più possibile, perché non hai molte alternative. Pensate, Stefan Radu arriva alla Lazio a gennaio della stagione 2007-2008, e quella sarà la stagione in cui giocherà di meno nella Lazio, ovviamente è arrivato a gennaio, ha praticamente saltato mezzo campionato, arriva dalla Dinamo Bucharest, e quell'anno giocherà 11 partite. Pensate che in quella Lazio c'era Iglitare, ma non come direttore sportivo, ma come attaccante di riserva, diciamo, perché i due titolari erano Rocchi e Pandev, che in quel periodo erano una coppia d'oro, segnavano tantissimi gol nella Lazio. Lazio che, proprio nella stagione 2007-2008, giocò l'ultima Champions League prima di quella di quest'anno. Lì la Lazio non superò i gironi, ma che gironi! La Lazio giocò contro Werder Brema e Real Madrid, e riuscì anche a strappare un pareggio al Real Madrid e una vittoria contro Werder Brema. Per cui era una Lazio non paragonabile a quella di quest'anno, però comunque una Lazio che raggiunge la Champions League. E come detto, quello fu l'anno in cui Radu giocò meno partite, 11, poi arriviamo quasi sempre a una ventina di partite in campionato, sto parlando, perché l'anno dopo ne fa 19, poi 25, poi 28, poi 26. Insomma, Stefan Radu è uno che ha sempre giocato con grande continuità, nonostante sia stato un giocatore soggetto a infortuni. Tant'è che nel 2015-2016 ne gioca solo 13 di partite in Serie A Stefan Radu e 9 in Europa. E' difficile pensare a un giocatore che, nonostante tanti cambi di allenatore, perché in più di 10 anni, anzi 13 anni con la maglia della Lazio, Radu di allenatori ne ha cambiati tanti. Nel 2007 c'era Deglio Rossi, ve lo ricorderete tutti come allenatore. Radu ne ha avuti tanti come allenatori, ma tutti, tutti lo hanno sempre schierato titolare. Nessuno ha mai rinunciato a Stefan Radu. Radu che con i zaghi ha anche cambiato ruolo. Lui che, in realtà, nella diramo Bucharest, nasceva difensore centrale, piede sinistro, e che nella Lazio, per esigenza, è diventato tersino sinistro. La Lazio aveva Kolarov, con la cessione di Kolarov, serviva un tersino sinistro e, appunto, Radu ha svolto quel ruolo. Lui che nasceva difensore centrale. Con Simone Zaghi è un po' tornato all'origine, dopo però 10 anni da esterno. E nella difesa a tre gioca Braccetto di sinistra, che, secondo me, è il suo ruolo migliore. Perché, nato difensore centrale, giocato per anni esterno sinistro, il terzo di sinistra nella difesa a tre è un po' una via di mezzo fra le due posizioni. E Stefan Radu è diventato, piano piano, l'idolo dei tifosi. Sempre più laziale, no? Io mi ricordo, ho tante immagini di Stefan Radu, in questi tanti anni trascorsi alla Lazio. Ne cito solo un paio. Mi ricordo rigore allo Juventus Stadium di Dybala, con la Lazio avanti 2-1, rigore all'ultimo minuto. Radu è un po' l'immagine di tutti noi laziali, no? In ginocchio a pregare che Stracoscia pari rigore, e infatti poi lo para. Oppure Stefan Radu dopo il gol della finale del 26 maggio, no? Che dà un calcio nel sedere a Lulic per liberare la gioia, la tensione di quella partita. Questo è Stefan Radu. Anche l'altra immagine bellissima di Radu, che festeggia in Curva Nord, praticamente dentro la Curva Nord, un successo della Lazio. Ecco, la cosa che mi piace di più di Radu è che, nonostante non sia italiano, nonostante non sia nato di Roma, a Roma è diventato un tifoso della Lazio. Forse, io dico sempre che Radu è il tifoso in campo della Lazio, no? Rappresenta i tifosi della Lazio. A volte questo gli ha giocato brutti scherzi, soprattutto nei derby, un po' troppo nervoso. Però, in altre, quasi sempre gli ha dato quella carica in più per dare il 110%, come si usa a dire. Ecco, Radu, secondo me, nelle partite ha sempre dato il massimo. Poi, a volte, il massimo non è stato abbastanza, ma quello capita di sbagliare. Però, quello che mi piace di Radu è che, quando gioca con Lazio, tu sai che Radu darà sempre il massimo. Ed è bello vedere Radu raggiungere questo traguardo, 401 partite, che, insomma, secondo me il giocatore se lo merita. Un piccolo particolare, Radu non ha mai voluto essere il capitano della Lazio. Un giocatore un po' timido da questo punto di vista, ha sempre preferito dare la fascia agli altri, anche se, visto il record di presenze, si meritava di avere la fascia da capitano. Come, per esempio, ha avuto Favalli, che aveva il record di 401 presenze. Stefan Radu rappresenta la lazialità, è un giocatore, secondo me, molto valido, che i tifosi un po' hanno criticato negli ultimi anni, però, nonostante l'età, Radu è sempre uno fra i migliori in campo. Lo scorso anno, ce lo ricordiamo tutti, ha avuto un po' un momento di flessione, ma le cose sono migliorate e Radu è uno dei punti fermi di Simone Zaghi. Non solo perché, onestamente, non ci sono grandissime alternative a sinistra, ma perché su Radu ci puoi sempre contare, e i tifosi della Lazio su Radu contano sempre. Grazie per la visione!